Una legge che riconosca lo status di città balneare è considerata un punto d'arrivo imprescindibile, una condizione inderogabile per garantire servizi a residenti e turisti e in qualità di coordinatrice del G20 Spiagge, la rete nazionale delle destinazioni balneari con almeno un milione di visitatori, la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, l'ha ribadito in tutte le sedie con tutte le personalità politiche presenti anche al TTC di Rimini, la manifestazione di promozione del turismo mondiale in Italia. È una necessità che sentiamo sempre di più, è un importante tema proprio perché i sindaci vogliono essere sul pezzo e dare risposte a tutte le esigenze della propria comunità. Lo stato di città balneare andrebbe a sanare le difficoltà d'amministrazione delle cosiddette città fisarmonica, località balnearia ad enorme afflusso turistico, la cui popolazione schizza da poche migliaia a centinaia di migliaia nei periodi di alta stagione. Due condizioni completamente opposte e difficili da gestire in termini di servizi. Intanto, archiviato il pienone della prima estate post-covid, la promozione è rivolta a consolidare l'offerta in nazioni come la Germania. È il paese che si è rivelato tra i primi a ritornare da noi. Abbiamo avuto infatti delle presenze, un numero decisamente superiore di presenze, in particolar modo da parte della Germania e questo ospite che ci è così tanto apprezzionato dobbiamo cercare di seguirlo, di cocolarlo e quindi tutto ciò che facevamo prima ritorneremo a farlo.